la passione di gesù cristo di padre gaetano da bergamo 15 dicembre ultime parole di gesù crocifisso punto quarto le ultime parole pronunciate da gesù crocifisso erano già state espresse dal profeta padre nelle tue mani affido il mio spirito ma dio è già unito inseparabilmente alla persona del verbo perciò che necessita c'è di raccomandargli il suo spirito nessuna non c'è dubbio egli parla in questo modo per dimostrare l'intima confidenza che esiste tra lui e il padre che poi vuole depositare nelle mani del padre con la sua anche le anime dei fedeli che ricevono la vita dalla sua morte che sono tutt'uno con il suo spirito gesù si serve di queste parole per assicurarci che le nostre anime non sono più nelle mani del demonio dal momento che le ha consegnate al padre celeste infine vuole lasciare alla chiesa un ulteriore insegnamento e a noi un esempio di come vivere gli ultimi istanti della nostra vita riflessione dobbiamo riconoscere che il salvatore divino anche se afflitto da tanti dolori non è mai restato inoperoso anzi ha voluto offrirci utili esempi ed insegnamenti anche nell'attimo estremo della sua vita e noi che desideriamo imitarlo dobbiamo pregarlo affinché quando verrà per noi il momento della morte egli ci renda degni di ripetere la sua espressione di offerta deve essere bello esalare l'ultimo respiro nelle mani del nostro dio ma per avere una simile felicità conviene prepararci per tempo rimettendoci completamente alla sua volontà ciascuno nel proprio stato altrimenti non possiamo sperare che in punto di morte dio accetti l'offerta della nostra anima se questa è vissuta senza il timore di offenderlo e lontana dal suo amore colloquio gesù mio in questo momento io mi raccomando a te lo faccio con tutto il cuore rimettendomi in quelle tue mani sante che è aperto per me sulla croce mi abbandono pienamente a voi mani amorose che non rispengete nessuno di coloro che a voi si rivolgono mani forti che non vi lasciate portare via neppure una di quelle anime che si sono consegnate a voi con fiducia il supplico guidate la mia vita come vi piace io non so quando e come verrà la mia morte forse mi spegnerò senza poter dire neppure una parola perciò gesù ti raccomando adesso la mia anima che è già tua perché è stata redenta col tuo sangue prezioso tienila stretta tra le mani con i vincoli della tua carità perché non ti sfugga e difendila dai nemici infernali che cercheranno di tenderle un agguato quando si preparerà a passare da questo mondo per gettarla nella disperazione con ricordo dei peccati commessi mio gesù si il mio salvatore aiutami a vivere nella tua volontà così poi potrò passare dalle tue alle mani del padre al quale mi hai raccomandato sulla croce insieme al tuo spirito pratica ogni giorno raccomanderò l'anima e dirò con adorazione a gesù crocifisso le parole che egli disse al padre padre nelle tue mani affido il mio spirito così mi metterò al sicuro nel caso che la mia morte sia improvvisa grazie a tutti